Primo decesso per Covid-19 nel comune di Pregnano, Cilento. Luigi Carpinelli era del 45 e aveva diverse patologie pregresse. Purtroppo non ha vinto la sua battaglia contro il virus ed è deceduto presso il Covid Hospital di Agropoli, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi. Tutti noi, non potendo onorare con la nostra presenza, lo ricordiamo con immenso affetto e animo commosso. Uniti ci stringiamo con affetto intorno alla famiglia Carpinelli. Questo è il messaggio di cordoglio del primo cittadino di Pregnano, Cilento. Anche il comune di Altavilla, Silentina, registra un altro decesso. Si tratta di una donna che era stata ricoverata presso i Ruggi di Salerno. Decessi continuano a verificarsi anche nel Vallo di Diano. È il caso di una donna di 83 anni, originaria di Montesano sulla Marcellana, e ricoverata nei giorni scorsi presso il nosocomio di Polla, che purtroppo non ce l'ha fatta. Oltre ai decessi, continuano a registrarsi ancora contagi nei comuni limitrofi del Cilento e del Diano. Ieri sera, nel report serale, un cittadino positivo ad Agropoli, con 53 cittadini contagiati totali. Uno anche nella città dei Capaccio Pestum, che porta il numero attuale di positivi a 145. Nel comune di Castellabate, il report dei contagi invece fermo al 27 aprile. Attualmente sono 37 le persone positive al Covid.